Il Festival di Sanremo 2015... Il Volo si appresta a partecipare alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Capolavoro. Sarà la terza partecipazione del trio sul palco dell'Ariston. Nel 2015 vittoria con Grande Amore e terzo posto nel 2019 con Musica che resta. Nella primavera 2024 poi il Volo partirà per il Giappone e la Cina per un tour che durerà da aprile a maggio. Io sono fiero di essere abruzzese, di essere di Montepagano, di Roseto degli Abruzzi e di portare sempre il nome della mia regione in alto, in Italia e in tutto il mondo. Con i ragazzi del Volo torneremo al Festival di Sanremo. Sarà una partecipazione molto importante per noi e poi partirà un tour mondiale che ci vedrà impegnati per più di un anno. Già insinito nel 2015 del titolo di ambasciatore nel mondo della città di Roseto degli Abruzzi, di questa mattina Gianluca Ginobble ha ricevuto l'abbraccio caloroso della sua gente. Mentre l'amministrazione comunale col sindaco Mario Nunez ha omaggiato il cantante con una presentosa da indossare sul palco del festival. Un momento, quello di stamattina, per rivivere la sua grande carriera e sostenerlo in vista della rassegna Canora. Come detto il Volo sarà in gara col brano Capolavoro, una canzone sentimentale che ha come fonte di ispirazione una persona che ha le capacità di arrivare all'improvviso e dare un senso alla vita. È una canzone che mostra un'evoluzione da parte del Volo a livello musicale. Torniamo trentenni al festival dopo anche nove anni dalla vittoria, quindi per noi sarà molto emozionante, ci metterà magari anche alla prova, sarà una bella sfida per conquistare anche un pubblico più ampio. Mio fratello ha lavorato sulla decisione artistica di questo nuovo progetto, quindi c'è anche la sua firma e sono molto felice. Saranno 15 anni del Volo con un nuovo disco di inediti, primo disco di inediti della nostra carriera. La nostra carriera si è basata più sulle cover, sul repertorio del passato, ma stavolta possiamo trasmettere la nostra vera personalità appunto con delle canzoni tutte nostre. Dalla città delle rose alla città dei fiori. Io sono fiero di essere abruzzese, di essere di Montepagano, di Roseto degli Abruzzi e di portare appunto sempre il nome della mia regione in alto, in Italia e in tutto il mondo. Con i ragazzi del Volo torneremo al festival di Sanremo, sarà una partecipazione molto importante per noi e poi partirà un tour mondiale che ci vedrà appunto impegnati per più di un anno. In sala consigliare tutta la sua famiglia, il nonno Ernesto che suonava nella banda di paese e che gli ha insegnato i rudimenti della musica e del canto. Il fratello di Gianluca che porta il nome del nonno e che oggi fa parte dello staff e che ha lavorato sulla decisione artistica del nuovo progetto, che vedrà sul palco i tre ragazzi in una veste diversa rispetto al solito cliché. È una canzone che mostra un lato, anche un'evoluzione da parte del Volo a livello musicale. Torniamo a trentenni al festival dopo anche nove anni dalla vittoria, quindi per noi sarà molto emozionante e ci metterà magari anche alla prova. Sarà una bella sfida per conquistare anche un pubblico più ampio. Saranno 15 anni del Volo, sì, con un nuovo disco di inediti. Primo disco di inediti della nostra carriera, la nostra carriera si è basata più sulle cover, sul repertorio del passato, ma stavolta possiamo trasmettere la nostra vera personalità appunto con delle canzoni tutte nostre. Donata da un maestro orafo di Roseto, una spilla che ricorda una rosa, simbolo della città e che Gianluca Ginobile ha promesso che indosserà sul palco di Sanremo.